Un saluto e ben trovati alla voce delle istituzioni. Oggi incontriamo il sindaco di Vigo di Cadore Silvia Calligaro, che saluto e ringrazio per la sua presenza. Grazie a te. Iniziamo da una grande notizia accaduta, insomma, emersa nei giorni scorsi, un accordo tra Magnifica Provincia e Comune. Di cosa si tratta? Ce ne vuol parlare. Allora Giovanni, come ben sai, a Vigo c'è la sede della Biblioteca Storica Cadorina, che è un'istituzione locale e per locale non intendo solo a livello di Cadore, ma di tutta la provincia di Belluno. Ha un patrimonio molto importante a livello di marron scritti e di libri sulla storia del Cadore. Nel percorso amministrativo abbiamo deciso di valorizzare i nostri tesori dell'arte e anche culturali, tra questi appunto anche la biblioteca. Quindi questa fa parte della strategia che abbiamo in mente e c'è un accordo appunto tra questi tre enti, quindi Comune, Magnifica, Comunità di Cadore e la provincia, per fare la digitalizzazione e la catalogazione di tutti i volumi presenti in biblioteca. Come ti dicevo appunto, fa parte di una strategia più completa, totalizzante, che vede anche la disponibilità da parte del Comune di Vigo di accogliere la Biblioteca Ladina, che come ben sai era a Borca. Attualmente si trova in provincia e quindi nei prossimi mesi verrà trasferita a Vigo, proprio per riportarla diciamo nella sua terra d'origine, quindi in un territorio cadorino e ladino. Quindi ci sarà questa digitalizzazione, per l'utente diciamo cosa cambierà? Allora, per l'utente medio diciamo che la Biblioteca Storica Cadorina vede un utente esperto, un conoscitore della storia cadorina e che va alla ricerca di materiale particolare. Quindi diciamo che per l'utente non cambierà niente, anche perché abbiamo due figure molto importanti all'interno della Biblioteca, che sono Noemi e Monica. Noemi, io la definisco la colonna portante della Biblioteca, nel senso che cura la Biblioteca come se fosse una figlia. Nel corso degli anni si è affiancata lei, anche Monica, e quindi prendono per mano il visitatore o comunque chi cerca del materiale e lo guidano nella scoperta del tema interessato. Che tipo di utenza appunto ha allora questa Biblioteca? E mi collego a un'altra domanda, è un argomento questo che interessa anche i giovani o è un po' così una cosa da anziani diciamo e studiosi? Guarda, avendo un patrimonio così particolare ha un'utenza di nicchia, quindi non è sicuramente una Biblioteca civica dove un ragazzo va a studiare. C'è da dire però che è variegata l'utenza, perché ci sono molti studenti, anche universitari, che ad esempio per le proprie tesi necessitano di materiale contenuto all'interno della Biblioteca e proprio per questo è necessario avere delle figure esperte come Noemi e Monica che possono aiutarli. Veniamo a un'altra collaborazione con la Magnifica, ci vuole un po' spiegare questo vostro rapporto con questa realtà. Allora, la Magnifica è un ente sovracomunale perché, come ben sai, raccoglie tutti i comuni del Cadore. Ha, secondo me, una finalità molto importante che è quella di promuovere la cultura cadorina. Questa finalità la porta avanti da molti anni e sul solco di questa tradizione Vigo si è inserito e quest'anno abbiamo fatto la mostra di Tommaso Darin, che è un pittore appunto di Vigo e abbiamo scelto due sedi per appunto mettere in scena la mostra, Vigo e Pieve di Cadore presso il Palazzo della Magnifica. E questo fa sì che i giovani anche possano conoscere le proprie radici e quindi l'identità cadorina. Questo per quanto riguarda la cultura, passiamo anche però a parlare di lavori pubblici, non ci vediamo insomma da prima dell'estate, c'è stato un grosso evento a fine giugno, ci parla di questo, di cosa è successo e di come state cercando insomma di tamponare la situazione. Allora, come hai detto bene, a fine giugno, il 29 giugno, c'è stato un evento meteorologico avverso che ha creato ingenti danni, sia al patrimonio pubblico che a quello privato. È balzata all'onore della cronaca la frana sulla strada SP619 che porta diciamo dall'abitato di Laggio a Casararazzoli. Sono state coinvolte delle abitazioni private, il traffico è stato interrotto per qualche settimana. Di fatto grazie a Veneto Strade la viabilità è tornata funzionante nel giro di dieci giorni, quindi c'è stato un lavoro incessante da parte delle ditte incaricate appunto di Veneto Strade. È anche vero però che questo evento ha creato numerosi danni anche su tutta la rete di strade silvopastorali del comune e non ultimo anche sulla Valle del Piova dove c'è la centrale idroelettrica comunale. Noi ovviamente ci siamo trovati ad affrontare dei danni e a dare dei lavori in somma urgenza, proprio per riuscire ad arrivare anche all'opera di presa, capire se poteva essere rimessa in funzione eccetera. Anche in questo caso la collaborazione tra enti è stata fondamentale perché grazie alla provincia, al presidente e al consigliere delegato Gosetti abbiamo trovato un appoggio fin dai primi giorni. Abbiamo siglato una convenzione che prevede appunto l'aiuto economico al comune di Vigo per quanto riguarda questi lavori di somma urgenza. Di fatto la Valle del Piova è molto fragile perché dopo Vaia diciamo che ha cambiato totalmente lo scenario. Non a caso, prima ancora di questo evento, quindi a inizio anno, mi pare che era intorno a febbraio, avevamo già chiesto, partecipando a un bando statale, dei soldi per la messa in sicurezza. Li abbiamo ottenuti, abbiamo ottenuto un milione di euro, sembra una cifra molto importante. Lo è, ma risulta solo una gocciolina nel mare perché quella Valle per renderla sicura e porre in sicurezza anche la centrale idroelettrica necessiterebbe di altri importi. Comunque riusciremo a fare delle scogliere e tutte delle opere di protezione appunto della strada e dell'opera di presa della centrale. La situazione così contingente di aumento e rincaro dei prezzi delle materie prime eccetera colpisce la vostra routine quotidiana come amministratori? In questo caso anche parlando di lavori magari i prezzi si gonfiano? Certamente, diciamo che quello che vivono le famiglie, quello che vivono le imprese ovviamente le vive anche un ente pubblico. In sede di appalti vediamo che effettivamente le imprese fanno fatica, per fortuna in alcuni casi ci sono stati dei ribassi importanti quindi riescono a calmerare i prezzi e riusciamo a portarli avanti. Un altro tassello importante che vediamo anche nelle nostre case è il costo dell'energia elettrica e del riscaldamento. Quindi adesso ci sono degli interventi statali in questo senso ma ahimè non penso che siano risolutivi del problema. Bisogna cercare di fare tesoro di quello che abbiamo e cercare di risparmiare e di avere un comportamento oculato anche negli edifici pubblici e anche per quanto riguarda la rete pubblica di illuminazione. A tal proposito Giovanni ti chiedo una cosa, chiedo scusa ai cittadini di Pelos che in questi giorni hanno dei grossi problemi per quanto riguarda l'illuminazione pubblica perché è un po' malorata. Quindi abbiamo cercato di fare dei piccoli lavoretti ma non sempre questi lavoretti consentono di risolvere il problema. Quindi molte volte la frazione si ritrova al buio. I lavori risolutivi sono molto importanti. Abbiamo partecipato ad un bando in tempi non sospetti quindi ancora quando la frazione viveva di ottima salute e quindi l'illuminazione pubblica c'era per sistemare l'intera illuminazione pubblica del comune e anche la sostituzione di tutte le lampade prevedendole a LED. In tempi non si aspetti, dico perché non c'era ancora il rincaro dell'energia quindi avevamo già guardato un po' oltre e speriamo appunto di essere vittoriosi e di portare a casa questi soldini in modo tale da risolvere sicuramente il problema dell'abitato di Pelos ma anche quello delle casse comunali quindi per avere un risparmio in termini economici e di costo di energia elettrica. Chiudiamo questa pagina dedicata alle opere pubbliche facciamo un passo indietro parliamo di estate. Com'è stato il periodo estivo dal punto di vista culturale di eventi in comune di Vigo? Allora il periodo estivo è stato molto ricco ci eravamo lasciati con la speranza che ci fosse un po' il ritorno alla socialità pre covid e sinceramente penso di dire che effettivamente c'è stato. C'è stato un gran senso di appartenenza di aggregazione da parte di tutti i cittadini e dei turisti che sono venuti a Vigo. Sono state riproposte delle feste paesane che era da anni dal pre covid che non venivano fatte. Siamo stati sede anche di eventi importanti a livello locale. Uno su tutti il Pelmo d'Oro a fine luglio ma non ultimo l'anniversario del soccorso alpino oltre a varie gare di bicicletta e di corsa che si sono svolte sul territorio comunale. Allora vogliamo entrare un po' nel dettaglio di queste due manifestazioni. Pelmo d'Oro siete stati onorati di averlo ospitato? Assolutamente sì. Il Pelmo d'Oro è una manifestazione molto importante a livello provinciale. C'è stato un grosso lavoro dietro però ti dico che secondo me la cosa bella è che appunto ha avuto questo senso di poter coinvolgere un po' tutti. Nel senso che tutte le associazioni del paese hanno lavorato per la riuscita del Pelmo d'Oro perché il Pelmo d'Oro si vede un'ora e mezza però il lavoro che c'è dietro è tanto e senza un gioco di squadra non si va da nessuna parte. E parla di montagna, la montagna però è anche pericolosa. Se non ci fosse il soccorso alpino quindi tornando all'evento di cui parlavamo prima sarebbero tempi duri per gli alpinisti. Assolutamente. Il soccorso alpino secondo me è una realtà fondamentale per la montagna. Anche lì l'anniversario lo ha sancito con forza c'è un gioco di squadra fondamentale e nella cornice innevata perché erano i primi di settembre però di fatto le cime erano molto innevate si è respirato questo clima anche di amicizia tra i vari membri del soccorso alpino e per gli appassionati di montagna sapere che ci sono delle persone preparate e che mettono a disposizione la loro competenza e il loro tempo libero per aiutare gli altri secondo me è fondamentale. Ci avviciniamo all'inverno. Che inverno sarà a Vigo di Cadore? Ci sarà ancora questo fermento? Guarda ci spero vivamente. L'anno scorso abbiamo imbastito tutta una serie di eventi poi in parte annullati. Quest'anno spero che effettivamente si possano mettere in campo variazioni. Fatalità questa mattina mi è stata fatta la domanda penso che sia la domanda principe che viene fatta a tutti i sindaci. Ci saranno le luminari natalizie? Perché ovviamente è un tema che ha una duplice valenza perché ovviamente ci si chiede come sarà il Natale se ci saranno gli stessi addobbi. Però dall'altra parte bisogna anche stare attenti alla spesa. Quindi io la domanda che ho fatto e ho girato un elettricista è stata ma scusa non possiamo mettere come a casa un timer per quanto riguarda gli addobbi natalizi e gli alberi di Natale? Non mi ha risposto. Quindi lo scopriremo alla prossima voce delle istituzioni se è stato possibile e quindi faremo un Natale tra virgolette normale oppure se dovremo inventarci qualcos'altro. Abbiamo ancora un minutino tempo di fare così un'ultima riflessione di respiro più ampio. È cambiato il governo? Cambierà qualcosa per le terre alte secondo lei e in caso così quali sono le principali richieste? Un argomento che un po' si reitera da anni però fa bene sempre ripeterlo. Allora io spero che qualcosa cambi per le terre alte. Sicuramente le terre alte hanno un rappresentante autorevole a Roma il senatore De Carlo. Abbiamo visto che c'è stato un decremento del numero dei parlamentari e quindi anche dei rappresentanti della zona. Penso però che la qualità del senatore De Carlo possa vedersi e quindi mi auguro fortemente visto che anche il sindaco del comune di Calalzo che possa portare avanti le istanze dei comuni. E le istanze dei comuni montani, quindi di quei comuni che devono farsi carico di un territorio più fragile, di costi anche di normale amministrazione come ad esempio quello dello sgombero della neve che magari dei comuni di una fascia più bassa non sentono e che però pesano sulle tasche del comune. Perché faccio l'esempio della grande nevicata di qualche anno fa lo sgombero neve costava 150 mila euro. È chiaro che sono risorse che toglie al bilancio comunale e toglie ai servizi essenziali ai cittadini. E lo sgombero neve è peraltro un altro servizio essenziale perché è evidente che la pulizia delle strade debba esserci. Staremo a vedere, noi siamo in chiusura, abbiamo esaurito il tempo a nostra disposizione. Ringrazio ancora il sindaco di Vigo di Cadore Silvia Calligaro per la sua presenza. Grazie. Grazie a voi per averci seguiti. Arrivederci.